Fratelli e sorelle Renazzurri, buon pomeriggio a tutti. Il mio video oggi non sarà fatto dalla cucina, il mio video oggi sarà spontaneo, sarà per condividere con voi, sono pigiama, felpa e ciabattine, per condividere con voi quello che sta avvenendo nella mia vita. Allora io sto facendo un trasloco, mi sto trasferendo da Napoli e sto andando su, sto andando su, vicino Milano, ecco non dico proprio dove sto andando però lo scoprirete prima o poi, non è che, figuratevi. E niente, questa sera c'è la partita, c'è stato il calciomercato, io vi faccio vedere tutti i miei pacchi, eccoli qua, tutti i messi lì, la mia casettina bella, i miei armadi vuoti, vuoti vuoti, ormai non c'è più niente, le mie armadi, le mie valigie quasi piene, o la già è chiusa. E insomma è dura ragazzi, è dura, è dura lasciare, è dura lasciare la mia bella Napoli, è dura lasciare una casa che è tua, che senti tua al cento per cento, è dura ricominciare ma nella vita ho fatto della mia vita la resilienza, una cosa che il centro, il fulcro della mia vita, sono sempre stata quella che messa davanti a tutte le sfide del mondo, le ho sempre vinte, grazie a Dio, e adesso si ricomincia, mi rimetto in gioco, si ricomincia da capo e si ricomincia vicino alla nostra Inter, quindi che cosa più bella ci potrebbe essere? Nessuna penso no, ricomincio da mia madre, che non vivo da 20 anni, vado più lontana da mio padre, questo mi pesa tantissimo, ma ci sarà modo e tempo per poter sicuramente andarlo a trovare. Per il resto che dirvi ragazzi, il calciomercato, parliamo di Inter, questo calciomercato per me è stato favoloso, abbiamo fatto un grandissimo acquisto che è quello di Eriksen, ma anche gli altri due, Young e Moises, secondo me sono dei grandissimi acquisti che faranno la differenza quest'anno. Questa sera andiamo a giocarcela a Udine, per quanto riguarda le altre squadre non commento, non voglio commentare più niente, non voglio parlare più di niente perché lasciamo stare, quindi parlo della mia squadra che stasera se non vince merita di stare sotto tutte le altre che sono avanti, punto e stop, questo penso, penso che la sfiga ci perseguita, penso che forse Andanovic, giusto lui, è il più indispensabile in assoluto di tutti quanti e mi dispiace che questa sera non ci sarà, spero per il derby e incrocio le dita perché qua la sfiga, porco dici, ci sta veramente distruggendo, questa mattina mi sono sveglietta con questa bellissima notizia, poi delle altre notizie le parleremo in questi giorni, adesso con 3500 cose da fare e un umore un po' ballerino, diciamo ragazzi che ho fatto il video perché è giusto che io lo faccia sempre e comunque e perché voi aspettate il mio video e quindi porco Giuda andiamo a Udine e facciamogli il culo quadrato, sportivamente parlando ovviamente sempre con il rispetto per questa squadra che ha dei colori che a noi non piacciono affatto ma che è un'altra storia. Ragazzi belli miei ricordatevi sempre che la vostra Lucri vi vuole bene, condivido con voi tutto quello che è la mia vita perché mi fa piacere e grazie per l'infinito e immenso affetto che state avendo in questi giorni nei miei confronti per tutto il cambiamento che sta avverendo nella mia vita, non è semplice ma io vado e salgo, 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 salgo sempre più su, ne vedrete delle belle, ci saranno tantissime novità in merito alla nostra Inter, in merito alla mia pagina e vi divertirete ragazzi, fidatevi, tante collaborazioni e tante cose bellissime, sempre e solo forza in te!